Ed è da poco passato Ferragosto il periodo con più affluenza sull'isola Rischia, ma come è andato questo periodo per i Lidi? Beh è andato un po' come era nelle previsioni, chiaramente avendo la metà dei posti a disposizione rispetto agli anni passati è stato facile riempire. Diciamo, io personalmente, ma penso sia un po' anche quello che sta succedendo sugli altri Lidi, non abbiamo avuto problemi di occupare i posti e gli ombrelloni. Quello che si è notato chiaramente è un forte calo dei consumi e quello che pesa moltissimo è la mancanza dello straniero, specialmente noi che abbiamo i ristoranti nella bassa stagione abbiamo sempre lavorato molto bene, questo qui è un calo che si è sentito molto e si sentirà penso anche in futuro. Noi veniamo certamente a un lockdown nell'apertura delle spiagge il 13 giugno a Rilento, luglio è andato così così, però certamente ci siamo ripresi il mese di agosto. La problematica è che noi cerchiamo di tenere tutte le regole, il protocollo regionale e nazionale per gli stabilimenti balneari, c'è il distanziamento, c'è il contenimento dell'ingresso, il contingentamento, c'è il controllo da parte nostra dei bagni di salvataggio che fanno anche come Stuart, informazioni e altre situazioni. Quello che sta mancando un pochettino in generale per le strade, la notte, effettivamente i 20-25 giorni di agosto erano prevedibili e purtroppo l'amministrazione comunale con tutta la buona volontà non è riuscita a controllare questa onda di ragazzi notevole. Noi come spiagge ogni anno abbiamo purtroppo avuto problematiche uscite dalle discoteche, perché i ragazzi venivano a fare i rispetti, attivandalici e altre situazioni. Quest'anno ci siamo organizzati e ci siamo consorciati da tutti i stabilimenti balneari della zona dell'Idolo di San Pietro e abbiamo preso un gruppo di giovani vigilanti e viene controllato la notte fino alla mattina tutto il litorale. Abbastanza bene, ottima clientela, io parlo del dai tu, non in generale, non ci possiamo alimentare. C'è un'ottima clientela che noi cerchiamo di accontentare, siamo soddisfatti del lavoro fino adesso fatto.